it's me mario benvenuti ad un nuovo video innanzitutto metti like e detto questo buona visione oh è lei che ne hai messo te spacco metti like dove parlo dei diritti delle donne secondo me le donne sono inferiori agli uomini perché loro si giudicano superiori a noi ma non capiscono che il peccato originale l'hanno fatto loro quindi la colpa è loro anche solo che hanno intusciato il peccato originale e consigliate loro però hanno un bel culo a giustificare delle loro azioni e delle belle tette da sottiliare ma stiamo scherzando? ma io mi dissocio? ma stiamo scherzando? ma stiamo scherzando? ma stiamo scherzando qua ok comunque quello che ti volevo dire è se c'avessi il tempo adesso di prendere la carta e mettere i numeri davanti alle cose allora lo faccio io domani lo faccio io domani grazie domani ciao ciao Luciano Top non è male se si lo vuoi fare tu allora diretto ci metti due secondi adesso no no ma alle due devo attaccare amati fare uno due tre vedi venne fuori intanto l'edichetta di sire guarda mamma io ma che madre oh ma che cazzo io fai i figli se poi non fanno un cazzo non fanno un cazzo fanno i figli ma non lo fai il figlio se poi non fanno un cazzo no? scusa giusto? oggi sei frutto dell'amore già te l'ho detto che culo allora ragazzi ho aperto un attimo instagram perchè ho tutti questi direct e vorrei leggerli mi poppa l'immagine di cinderella ok ragazzi secondo voi chi ha messo like? ah la scopriamo così piano piano? guarda un po la riconoscete la foto? ora un po Iaiaiaiaiaiaiai iaiiaiaiai iaiiaiai Iaiiai iaiiaiai iaiiai iaiiaiai ahiaiai iaiiai Lo sto solcherando a Jacopo, poverino Guarda il flash Hello there Proviamo a killarlo? Non lo killiamo mai È un po' troppo tozzo C'è pure una pozione e il biscotto Ma in realtà potrei provare Però se gli blocco la ulti mi fa la E Se gli blocco la E mi blocco l'altra cosa Easy, easy Purtroppo è successa una cosa che non penso succedesse Pensavo mi spleghasse Invece non mi spleghato Oh, lasciami stare Ah, figlio di puttana Invece non è successa Facciamo un secondo uno schema, veloce veloce, ok? Allora Questo è Seku Questo è Seku, ok? Questo è Seku Seku lo scriviamo Seku, Seku Vivix ha fatto il sub a Seku Quindi Vivix al contrario scriviamo perché è un figlio di puttana Seku Coccia Direttamente Direttamente 22 Direttamente 22 Quindi se Vivix fa il sub a Sekuar qua Ok? Fa il sub a Sekuar Cosa vuol dire? Che se qua il coccio Vivix fa il sub a Sekuar 22 Figlio di puttana Veramente Holy shit Mi sto iniziando nel musiere Veramente Mi sto iniziando nel musiere Mi sto iniziando Io lo contestiamo sicuramente in live Bye Minchia Eh, ho trollato Pensavo LOL Pensavo avesse già creato il muro My bad, my bad Ho totalmente misfrogliato qua Pensavo ci fosse già il muro italiano Ma chiedete perché In chat prima hanno detto che le donne Sono inferiori rispetto agli uomini Tu vuoi dire il motivo per il quale Secondo te non è così, mamma? Tiè, se vuoi parlare Le donne hanno decisamente una marcia in più Eh, ma per quale motivo? È un argomento Sesso, senso È una cosa che gli viene da dentro È un argomento Non sarebbero mai in grado di Di sopportare una ragazza Quindi stai dicendo che gli uomini sono inferiori? Non sono inferiori però Eh, ma quello che hai detto Le donne hanno sicuramente una marcia in più Ma quindi stai dicendo che gli uomini sono inferiori? Perché le donne hanno una marcia in più Ma nella struttura Sono stati strutturati così Sì, non è Quindi sono inferiori Sì Ebbene, sì Però sono strutturati Ma stiamo scherzando? Sono strutturati così Ma stiamo scherzando Non è colpa loro Ma stiamo scherzando Ok, no Ma stai dicendo che le donne sono C'è una donna e un uomo A parità di età Sì C'è una donna che gli dà una pista, eh Sì Sì, sicuro E perché te non capisci il cazzo? Perché io sono rimasta piccola Non sono cresciuta Va bene, dai Ho fatto un genio Fatto Io? Ho fatto un genio 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 Ok quindi Oh Oh E' il nome qua Flash Ah ma si gioca proprio costa tp Ok lui non c'è il grab qui quindi sono abbastanza safe What the fuck was that? Wait Come facciamo vedere la pink ragazzi? Che cazzo sto dicendo? Vatti a vedere Signor, 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 signor Matt Miller Cosa c'è scritto? Ciao cane, mi sei antipatico, ciao Un po' tossico, certo, non devo essere sincero Figlio di... XXMeisterLex La Budova prende questa un'embed It's ok Lisa Dantori You are playing good You are simp Ecco qua Simp Operation Part 1 E' questa fighe E' questa fighe Rende il tutto Facciamo capire a questo ragazzo quanto il mondo è piccolo Vi metto subito qua Contro chi siamo? Mordekaiser Che è cresciuta la figa a te E mo ti faccio vedere pure quanto mi cresce a me Ma come fa se non hai chiedato 1v1 chat? Sta cosa è impossibile chat E vi giuro che è impossibile Bagnamo Amatis Bagnamo Amatis Ma non lo so in realtà C'è Rumia che la sta simpando Ma ieri ho avuto notizie Molto Molto diverse In un gruppo di Di Whatsapp C'era Gianni che si vantava di aver fatto Duocchio E di aver rubato la simp A A Rumia Io ora non so Ora non so Cosa sia successo Tra i due Ma credo che Ci sanno Ci possa essere qualche notizia Notizia flash Dal servizio Che cosa ha fatto Ieri 6 Amatis Con Gianni Mi scusi Perché Gianni Si è vantato di aver fatto Doocchio con lei Signor di Amatis Che cosa è successo? E soprattutto Ha giocato a TFT con Koku Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm